Salve a tutti crononauti e bentornati su Spazi Attorcigliati. Io sono sempre Davide e oggi sono qui per parlarvi di un argomento a me molto caro, perché si tratta di una delle cose di cui mi occupo nella mia attività di ricerca come dottorando al Max Planck Institute di Fisica di Monaco di Baviera, ovvero la Swampland, la palude della teoria delle stringhe, per chiarire di cosa si tratti dobbiamo come sempre fare un passo indietro e questa roba si sta trasformando nel nuovo slogan del canale e chiederci cosa faccia la fisica delle alte energie e dico fisica delle alte energie perché c'è altra fisica, oltre a quella delle alte energie c'è la fisica della materia ad esempio che fa cose completamente diverse e meravigliose ma di cui non posso parlare perché non è il mio mestiere, un giorno sul canale ospiteremo degli amici che fanno quella roba lì e che ci spiegheranno un mondo completamente nuovo a voi e a me in parte, ma concentriamoci sulla fisica delle alte energie. La fisica delle alte energie storicamente è partita da descrizioni del mondo su larga scala, alle scale a cui viviamo, la fisica cosiddetta classica, per poi passare a costruire descrizioni della natura su scale sempre più piccole, arrivando fino al mondo microscopico. Ecco, naturalmente il percorso non si è concluso. Noi descriviamo la natura fino a una certa scala e vogliamo descriverla a scale più piccole. Ma c'è un problema, un problema assolutamente evidente. Quando noi abbiamo una teoria che funziona fino a una certa scala di lunghezza e vogliamo costruire una nuova teoria più raffinata che funzioni anche a scale più piccole, quando noi vogliamo estendere una certa teoria oltre il suo cosiddetto cut-off ultravioletto, ovvero la scala dove si rompe e smette di descrivere in modo efficace la natura, c'è un problema. Il problema è che manca evidenza sperimentale. Più piccola è la scala a cui cerchiamo di lavorare, meno evidenza sperimentale abbiamo, perché è più difficile fare esperimenti, perché serve più energia, servono acceleratori più grandi, servono idee migliori. E questo è un problema degli amici sperimentali che non mi riguarda. Però io con quella evidenza sperimentale dovrei costruire le mie teorie microscopiche. E quindi c'è un problema. Per fortuna non tutto è perduto, perché la natura sembra averci compensato con un contrapasso positivo, l'opposto di quello che Dante faceva all'inferno. Da un lato è vero, ci toglie dell'evidenza sperimentale man mano che andiamo verso scale più piccole. Ma dall'altro pare regalarci condizioni di consistenza più strette sulle teorie che possiamo scrivere. Questo significa che a una certa scala, la scala a cui viviamo noi, possiamo scrivere un sacco di teorie consistenti. Ma quando andiamo a scale più piccole, ancora più piccole, e ancora più piccole, il numero di teorie consistenti che possiamo scrivere si riduce drasticamente, perché emergono dei vincoli di consistenza, che ti dicono che gran parte delle tue teorie sono da buttare via, perché rompono la causalità o qualche altra proprietà fondamentale che, viva Dio, ci aspettiamo che la fisica, anche su scale microscopiche, conservi. Ora, una bilancia. Perdiamo evidenza sperimentale, guadagniamo, pare, condizioni di consistenza. Ma proviamo ad affrontare il problema dall'altro punto di vista. Immaginiamo di avere già una teoria microscopica su scale piccolissime, quelle che noi chiamiamo scale ultraviolette, e di voler da questa tornare a larga scala. Ebbene, da una singola sola teoria su scala microscopica, noi possiamo scrivere tantissimi modelli effettivi, differenti, a scale un pochino più grandi, come quelle, se la nostra teoria microscopica è la teoria delle stringhe, le scale un pochettino più grandi possono essere quelle dove si lavora con la teoria quantistica dei campi, per farci un'idea. Quindi non camion, elefanti o pianeti, anche cose che per noi sono microscopiche, ma che per la scala a cui ci immaginiamo lavori la teoria delle stringhe sono e non guarni. Quindi, da una sola teoria ultravioletta, sia essa teoria delle stringhe o qualunque altra roba non è un problema, possiamo costruire tanti modelli diversi, proprio per quando andiamo verso scale più grandi, verso energie più basse, proprio perché quelle famose condizioni di consistenza diventano un po' più mollicce, si rilassano, e quindi ci permettono di costruire tante più teorie, come un cono che si allarga. Partiamo da un punto e man mano che le condizioni di consistenza si indeboliscono, possiamo costruire tante teorie consistenti diverse, fissando certi parametri, imponendo certi valori di certi campi, congelando la fisica ad alte energie in un certo modo. Il punto è che noi abbiamo dei gradi di libertà della fisica che si manifestano ad alte energie e quando noi andiamo a basse energie, quindi a larga scala, sono sinonimi. Alte energie vuol dire piccola scala, basse energie vuol dire larga scala. Li userò senza pensarci tanto, perché purtroppo è deformazione professionale. Dicevo, noi abbiamo dei gradi di libertà della fisica vera e propria, delle particelle, delle cose così, qualunque siano i nostri oggetti fondamentali, che esistono ad alte energie e che non si manifestano a basse energie, perché non vengono eccitati. Quindi questi si congelano in una certa forma, se vogliamo usare questa analogia, e imponendo un certo cristallo, se vogliamo continuare lungo l'analogia, ma non perdiamoci troppo, altrimenti rischiamo di sviare i poveretti che ci guardano, ok? In questo momento sto parlando con la gente che mi segue in live, perché questi video sono registrati in live. Dicevo, congelando in un certo senso i gradi di libertà ad alte energie, noi costruiamo diversi modelli a basse energie a larga scala. Mi sono ripetuto, ma ha ripetitato su queste cose. Se pigliamo la teoria delle stringhe, c'è un'evidenza molto forte che ci suggerisce che da quella sola teoria la quantità di teorie a larga scala, scala del modello standard della fisica delle particelle, quindi microscopica per noi, ancora una volta grande per la teoria delle stringhe, sia enorme. Ci sono tantissime teorie alternative che possiamo scrivere, ma proprio una roba sconvolgente, 10 alla 100 mila erotti, cioè una roba brutale. Quindi, sentendo questa frase, qualcuno potrebbe essere portato a chiedermi se la teoria delle stringhe possa... se dalla teoria delle stringhe possa emergere qualunque teoria a basse energie, qualunque teoria di campo accoppiata alla relatività generale, qualunque modello su larga scala. E in tal caso, ciò potrebbe significare che la teoria delle stringhe non ha alcun potere predittivo, ovvero se davvero emergono così tante teorie a basse energie dalla teoria delle stringhe, è ragionevole aspettarsi che emergano tutte le teorie possibili, tutte le teorie che a una certa energia sono consistenti, e allora la teoria delle stringhe non ci dice niente sulla fenomenologia a basse energie, allora la teoria delle stringhe non ha alcun potere predittivo, allora la teoria delle stringhe non è scientifica, non so cosa stia facendo con la mano. Per fortuna, la risposta a questa domanda è no, non è vero che dalla teoria delle stringhe può emergere qualunque teoria a basse energie. Non è semplicemente vero. E questo è il punto di partenza del programma Swampland. Se noi ci mettiamo a una certa energia e consideriamo tutte le teorie possibili che a quell'energia sembrano consistenti, noi le possiamo classificare in due gruppi. il Landscape, della teoria delle stringhe, e la Swampland. Il Landscape è formato da quelle teorie ad una certa energia di campo accoppiata alla gravità che effettivamente possono emergere dalla teoria delle stringhe andando verso energie più basse. La Palude, la Swampland, è formata da tutte quelle teorie che appaiono consistenti a una certa scala di energia ma che non possono in alcun modo emergere dalla teoria delle stringhe come teorie a basse energie. E per fortuna la Palude sembra enormemente più grande del paesaggio, del Landscape. Quindi a una certa energia sono davvero poche rispetto alla totalità, pur essendo tante in senso assoluto, sono poche in senso relativo, le teorie che possono venire fuori della teoria delle stringhe e in questo senso ha potere predittivo. Poi, la difficoltà nel fare gli esperimenti è tutto un altro discorso. La gente come me, che si occupa del programma Swampland, cerca di formulare dei criteri per dire se una teoria appartenga a una certa energia al paesaggio, al Landscape o alla Palude, allo Swampland. Ovvero, senza fare riferimento a ciò che accade a energie più alte, voi mi dovete dare una teoria qualunque apparentemente consistente, quelle già inconsistenti, esplicitamente inconsistenti non sono nemmeno interessanti, ma voi mi date una teoria che sembra consistente, io la butto dentro la mia macchinetta da studioso della Swampland e vi so dire se quella teoria del tutto innocua appartenga effettivamente al Landscape di teoria delle stringhe o sia una teoria fantoccio, finta, una burla, una bufala, un inganno, e quindi appartenga alla Palude. E questi criteri devono far riferimento solo alla caratteristica delle teorie a quelle energie. In un certo qual modo noi stiamo facendo meta... un lavoro di... Metafisica è brutto perché non è metafisica, è fisica. Stiamo facendo fenomenologia di stringa, stiamo cercando di connetterci agli esperimenti, ci stiamo connettendo agli esperimenti, ma facciamo metateorie, facciamo, consideriamo questo spazio di tutte le possibili teorie che voi dovete immaginare come un oggetto geometrico dove ogni punto è una teoria diversa, una certa energia e studiamo questo spazio, facciamo delle teorie su questo spazio, delle teorie sulle teorie e degli enunciati sullo spazio delle teorie e in particolare cerchiamo di costruire delle mappe, delle cartine di questo spazio. Siamo come un Marco Polo che cerca, che esplora per la prima volta un territorio nuovo dove da un lato c'è una terra fertile brulicante di farfalle colorate e dall'altro c'è una vischiosa palude col fumo a forma di teschio che emerge e lui man mano cammina, costruisce una cartina e cerca di comprendere la logica che fa sì che dove c'è la palude ci sia la palude e dove c'è la terra ci sia la terra. Quindi formulare dei criteri che separino la terra dalla palude e capire come diavolo sia fatto questo spazio di teorie a basse energie di criteri siffatti ce ne sono tantissimi io lavoro su alcuni in particolare quelli legati alla cosiddetta distance conjecture che ti dice che partendo dal dal paesaggio prima o poi nella palude ci caschi seguendo certi percorsi ma questo è ancora un altro discorso ce ne sono tante ce ne sono moltissime alcune sono molto forti nel senso che c'è molta evidenza a sostegno di queste congetture altre sono un po' più speculative noi le utilizziamo quando cerchiamo di raccapezzarci in questo mondo un po' complicato delle teorie a basse energie di gravità quantistica questo è un contesto molto generale e voi mi chiederete ma se noi non sappiamo ancora quale sia la teoria fondamentale di gravità quantistica come facciamo ad avere dell'evidenza per queste congetture per questi criteri che chiamiamo congetture della Swampland ebbene ci sono tre forme di evidenza evidenza che viene da costruzioni esplicite di teorie delle stringhe o di altre teorie di quantum gravity quindi noi costruiamo esplicitamente dei modelli vediamo che hanno tutti qualcosa in comune e ci diciamo caspita proviamo a generalizzare facciamo il passo induttivo è come se stessimo facendo degli esperimenti interni alla teoria tutti i modelli che costruiamo hanno una certa caratteristica allora congetturiamo che sia una caratteristica generale di tutti i modelli possibili due argomenti generali di quantum gravity caratteristiche che ci aspettiamo che quantum gravity abbia indipendentemente dall'approccio scelto e tre argomenti un po' più conservativi di teoria quantistica dei campi in spazi curvi o relatività generale perturbativa quantizzata tutte queste robe qui un po' meno peregrine un po' più vicine alle teorie che conosciamo e testiamo tutti i giorni e generalmente queste tre fonti una molto legata a teoria delle stringhe una poco legata a teoria delle stringhe una per nulla legata a teoria delle stringhe vanno a braccetto si danno una mano a vicenda e ci forniscono diversi indizi a sostegno di certe congetture la comunità si incontra ne parla pubblica ci lavora e cerca di costruire delle cartine affidabili di questo spazio di teoria io spero che il discorso sia stato chiaro ovviamente se avete delle domande delle perplessità dei dubbi io ne ho avuti molti a mio tempo che poi per fortuna si sono resi un pochino più chiari lasciate un commento sotto il video io vi ricordo che se volete sostenere spazi attorcigliati interagire coi video è il modo migliore per farlo e che tra pochi mesi anzi quando uscirà questo video tra poche settimane sarà disponibile il primo volume di Counterpoint il fumetto che ho scritto a quattro mani con Alessandro Carnevale per Polignani disegnato da Carlo Cid Lauro che è disponibile al preordine sul sito dell'editore che vi lascio qui in descrizione grazie crononauti di avermi seguito fin qui e vi ricordo che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa a presto